Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account, contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini. Ciao a tutti ragazzi, sono GTDW e benvenuti in questo nuovo video dove come vi ho detto dal titolo, come promesso vi porto questo nuovo glitch in solo per duplicazione massiva. Quindi requisiti ragazzi, sessione pubblica con tante persone all'interno, poi opzioni online, nuovamente opzioni, sala d'attesa chiusa. Adesso andiamo davanti alla tabella qua, premiamo opzioni, andiamo su online, andiamo su giocatori e adesso ragazzi selezioniamo ogni giocatore finché non vediamo la voce unisciti. Quindi come vedete io adesso vado a selezionare tutti quanti i giocatori finché su uno di essi non mi dice unisciti alla partita, come ad esempio in questo caso. Quindi se non lo trovate cambiate sessione, se lo trovate fate unisciti alla partita e adesso aspettate su questo messaggio per circa 30 minuti ragazzi. Quindi ogni tanto muovete l'analogico, se no bloccate gli analogici, aspettate su quel messaggio per 30 minuti, intanto fate altro ovviamente. E ragazzi nel mentre vi preparate un'attività recente, quindi si trova così l'attività recente. Selezionatene una che ci sia scritto avvia gta online, poi premete due volte il tasto ps e vi riporterà il gioco. Passati 30 minuti ragazzi accettate questo messaggio e se tutto quanto è riuscito bene ragazzi dopo che l'avete accettato come vedete vi farà una schermata del genere e vi uscirà un secondo messaggio impossibile connettersi. Poi vi farà dei flash, voi ovviamente lo accettate, vi farà questi flash e poi vi riporterà il gioco. Adesso premete opzioni, andate su online, andate su attività, avvia attività, create da Rockstar e avviate un lavoro da titano, quindi in missioni un lavoro da titano. L'avviate, appena l'avviate ragazzi come vedete appena l'avviate, appena accettate questo messaggio premete tantissime volte quadrato. Quindi appena accettate questo messaggio può iniziare questa attività, voi l'accettate e premete tantissime volte quadrato come adesso. Premo tantissime volte quadrato, uscirà questa schermata nera, adesso ragazzi premo due volte il tasto PS, vado su avvia GTA online e ci premo, mi riporterà il gioco e rifiuto il messaggio. E ragazzi questa parte ovviamente non andrà più rifatta all'inizio, quindi non è che dovrete attendere ogni volta per duplicare un'auto, per questo è massivo. Adesso andate davanti al distributore, aprite il telefono, andate su avvia partita veloce, dopodiché ragazzi rifate l'attività recente e la rifiutate, il vostro personaggio ricomponente. Comparirà, premete freccia destra per una bibita e dopodiché andate nelle telecamere premendo freccia sinistra lì sul pallino blu. Dopodiché salite su un veicolo a caso, premete il tasto per accelerare, andrete sotto mappa, mi raccomando ragazzi non aprite per nessun motivo il paracadute, se ce l'avete. E adesso ragazzi sarete come vedete spawnati senza minimappa, praticamente lontani appunto dall'arena e dovrete dirigervi al vostro bunker. Vi ho fatto vedere come si apre la mappa, basta andare su internet e poi premere opzioni. Prima di entrare nel bunker ragazzi una volta arrivati, levatevi dal CEO, se siete CEO ritiratevi perché sennò il glitch non funzionerà. State attenti nel mentre a non farvi uccidere perché se vi uccidono è un casino. Adesso ragazzi una volta nel bunker entrate all'interno del centro per radio mobile, salite sull'auto che volete duplicare e adesso ragazzi o iniziate a bere birre o utilizzate il metodo del bandito oppure utilizzate questo metodo qua che vi faccio vedere io. Quindi andate verso la porta, premete esci dal bunker, una volta che l'avete premuto ragazzi l'auto si buggerà e adesso dovrete aspettare che l'auto scompare, dovrete mettervi dove stava l'auto prima e dovrete attendere che ricompare. Appena ricompare premete triangolo per entrarci. Vi sconsiglio questo metodo anche se è più veloce perché certe volte potrebbe dare dei problemi quindi dovreste riprovare più volte. Quindi vedete adesso premo triangolo, a me non mi fa andare subito sotto mappa perché ragazzi quando lo farete vi dovrebbe fare andare sotto mappa. Se non ve lo fa fare ragazzi riprovate finché non ve lo fa oppure cambiate posizione all'auto come vedete io poi l'ho messa qui e mi è funzionato. Comunque vi consiglio il metodo delle birre fino allo svenimento perché è quello che funziona meglio. Comunque ritornando a noi se utilizzate questo metodo quando entrerete nell'auto spawnerete sotto terra e spawnerete nei pressi dell'arena. Adesso ragazzi diventate CEO nuovamente e richiedete un veicolo CEO, io vi consiglio il buzzard. In tutto questo procedimento ragazzi non utilizzate più veicoli personali. Adesso ragazzi una volta arrivati all'arena war vi ritirate prima di entrarci e una volta che siete dentro salite su una LGRH8 a caso. Accelerate come prima, spawnerete sotto mappa, non toccate come al solito il paracadute. Una volta spawnati normalmente ragazzi diventate CEO un'altra volta e richiedete il buzzard appunto per muovervi più velocemente e andate al bunker. Ovviamente ragazzi ritiratevi dal CEO prima di entrare, almeno io vi consiglio di farlo. Poi ovviamente se notate che si bugga vi ritirate, se no non lo fate. Comunque io vi consiglio di ritirarvi sempre, seguite bene il video. Se vado troppo veloce ragazzi ci stanno i tre pallini in alto a destra nel video per rallentare la velocità, mettete 0.75. Quindi una volta che siete dentro al bunker troverete l'auto che stavate duplicando lì. Adesso ragazzi ci salite, se avete la targa cambierà. E adesso ragazzi dovrete semplicemente metterla nei pressi qui. Dovrete fermarvi qui a questo spiazzo giallo. Entrate da dietro del centro operativo mobile ed uscite da davanti. Io ragazzi vi ho messo un'altra clip qui dove salvavo l'auto perché mi sono scordato che dovevo prima entrare da dietro e poi uscire da davanti. Sono entrato direttamente e l'auto si è buggata e quindi era un casino e avevo poco tempo per rifare il glitch. Comunque il glitch è completo come vedete. L'auto è stata salvata anche in questo caso vi ho fatto vedere tutto quanto il procedimento. Adesso ragazzi per continuare a duplicare. Semplicemente prendete l'auto che avete appena fatto, uscite fuori, rifate il metodo per uscire dal bunker o con le birre o col bandito o con il metodo di andare sotto mappa. E poi ragazzi ritornate all'Arena War, prendete un'altra RH8 e continuate. Quindi come vedete ragazzi questa qua è la coppia, l'originale si trova al posto della LG RH8. Quindi spero che il video vi sia stato chiaro, se avete dubbi vi ripeto entrate nel gruppo nel canale Telegram, link nel commento bloccato in alto. Oppure lasciate un commento, vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale perché siamo quasi a 50.000 iscritti. Vi ringrazio ancora tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.